L'assistenza sanitaria domiciliare non sarà sospesa. L'ANSL Salerno ha garantito che l'attività continuerà. L'impegno è stato assunto questa mattina dal direttore sanitario aziendale Federico Pagano che ha incontrato i rappresentanti dei medici e degli infermieri che operano su questo fronte. La riunione si è tenuta nei locali della direzione sanitaria dell'ospedale Umberto I e vi ha partecipato anche il direttore Maurizio D'Ambrosio. Il contendere sono le prestazioni di medici, soprattutto anestesisti, e di infermieri che vengono effettuate nelle abitazioni di ammalati colpiti da gravi patologie e che sono costretti a seguire cure a lungo termine e che quindi vengono effettuate a domicilio. L'azienda sanitaria era debitrice nei loro confronti, tanto da spingere gli operatori sanitari a presentare dei decreti ingiuntivi contro l'ASL e minacciare la sospensione del servizio. Un allarme che ha provocato la reazione delle famiglie e degli ammalati, in molti casi bambini preoccupati da un vuoto che rischiava di mettere a repentaglio la vita dei loro cari. Tutto questo però è stato scongiurato. Siamo qui per ricomporre tutto, non solo per tutelare i diritti di questi lavoratori ma anche per consentire la continuità assistenziale, continuità che loro tra l'altro fanno molto bene, quindi non c'è nessun motivo e quindi stamattina sicuramente io sono ottimista e convinto che la cosa si chiuderà positivamente. Che cosa proporrà loro? Beh innanzitutto il pagamento degli arretratti, questo è evidente, poi il pagamento corrente e da loro l'impegno di continuare questo ottimo lavoro che stanno facendo.